Senti il tifo per Cannuli Senti dove sono partiti E allora sfidaci Grazie a Michael Poglia Che sta spazzolando tutta l'area Spazzolando tutta l'area Spazzolando Oh 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 Il numero di 18 seconde 16 E questa volta di includere anche Andrea Chirardelli Ottima fase Per l'ultima fase Senti Un numero di 3 Senti In Un numero di 3 E